pronti a commuoversi perché noi lo siamo stati guardando la foto di questo povero cane trovato da una persona premurosa. Il cane aveva un'espressione triste, malinconica e tremava dal freddo, rischiando l'ipotermia. Era abbandonato sul bordo della strada e è stato scoperto da un corridore di Stanford. I corridori hanno sempre storie interessanti da raccontare poiché, passando molto tempo all'aria aperta, si imbattono in aneddoti affascinanti. Purtroppo, in questa storia, l'aspetto interessante è anche quello che dobbiamo affrontare e combattere. Il fenomeno dell'abbandono, ancora troppo diffuso in una società che si considera moderna. L'abbandono è crudele e mette a rischio la vita di anime indifese, di coloro che si affidano a noi, che ci amano e ci proteggono. È un gesto che deve essere analizzato e debellato completamente dalla nostra cultura. Siamo nel Connecticut, negli Stati Uniti, dove una corsa mattutina si è trasformata in un sorprendente atto di salvataggio. Questo pitbull cercava riparo dal freddo invernale con un piccolo asciugamano e uno sguardo triste. Il corridore non ha esitato a portare in salvo il cane chiamando i soccorsi. Inoltre, il cane era ferito e aveva la scabbia, quindi aveva bisogno di cure immediate. Fortunatamente, i volontari hanno fatto un lavoro eccezionale come sempre e gli hanno dato anche un nome. Lincoln. Il grande cucciolo è stato adottato e oggi è felice e al caldo con una mamma veterinaria.